L'antico racconto di Natale, sì perché la storia è molto antica e poi è di Natale. È così antica che molto tempo fa si rappresentava direttamente nella storia. E a me piace tantissimo, allora sono venuto per vederlo. Sentirebbe dove siete diretti, è un viaggio segreto. Questo martello glielo frego io, ma certo che era proprio rotta la barca di Geremia. Iniziamo a far festa dal tuo pianoforte. In che senso? Ora metterai. Pingo la mia mano di capo nell'acqua del piume Giordano, tocco il mio viso. Io vivrò soltanto 33 istanti. Vieni su, 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 la trappa di Pense. Oh, 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 oh.